In questo anno siamo a una vera e propria svolta nel cammino sinodale della nostra diocesi come di tutte le diocesi italiane. Difatti dopo la fase narrativa che abbiamo vissuto e che ha coinvolto decine di migliaia di persone all'interno della nostra diocesi, tra parrocchie, movimenti, associazioni, gruppi, congregazioni, ora inizia la fase sapienziale, quindi una fase che raccoglie tutto ciò che nel pregresso è avvenuto, non lo dimentica, lo acquisisce, lo elabora e lo incanala verso appunto questa fase sapienziale. Ricordiamo bene tutti che il nostro Vescovo ha pubblicato quest'anno la lettera pastorale proprio sul tema della sinodalità, Uomini e donne in cammino. Bene, in questa lettera il nostro Vescovo compie anche alcune scelte, la scelta di due filoni portanti per questa fase sapienziale, il filone della missionarietà come prossimità e il filone della corresponsabilità. Bene, il nostro Vescovo ha affidato l'avvio e poi la prosecuzione e il compimento di questa fase sapienziale al Consiglio pastorale diocesano, perché il Consiglio pastorale diocesano rappresenta tutta la comunità cristiana, le sue varie componenti, dal Vescovo ai presbiteri, i diaconi, le congregazioni religiose, i laici, le laiche, tutti coloro che appartengono ad associazioni e movimenti. Quindi il Consiglio pastorale diocesano elabora le proprie strategie, consiglia il Vescovo, ma dà anche alcune indicazioni precise a valle, quindi in tutto il territorio diocesano, nei consigli pastorali parrocchiali, nei consigli delle unità pastorali. Quindi il Consiglio pastorale diocesano è protagonista dell'elaborazione di questa fase sapienziale, ma chiama con sé ad essere protagonisti anche tutti coloro che si occupano di consigliare i parroci, di consigliare coloro che coordinano le unità pastorali. Questo è l'avvio dell'attività sapienziale.